Siamo orgogliosi di aprire il primo punto, un bike cafe, un punto di ritrovo per tutti i ciclisti, per tutti gli avanti delle due ruote, dove potersi ritrovare perché no davanti a un caffè oppure un punto di primo soccorso, chiamiamolo così, qualcuno durante un'uscita ha un problema ad una ruota, qui troverà sempre una pompa per gonfiare la propria ruota o una camera d'aria per riparare. E' anche un punto di ritrovo da dove possono nascere tante e tante idee come quelle che già stiamo portando avanti da un po' di tempo con la squadra Terunio. Vogliamo ripartire proprio dalla nostra zona, dal nostro territorio per far ammirare le bellezze che abbiamo. Appunto questo bike cafe sarà anche un luogo di ritrovo per escursioni, da qui vogliamo far riscoprire le bellezze del nostro territorio, appunto perché no sperando che al più presto possiamo rifare la nostra Gran Fondo Terunio. Grazie a tutti.